In questo nuovo video, oggi ragazzi vi dico una cosa come sapere quando troverete il vostro brotter Io calcolerò ovviamente pure se mi no, anche se il brotter non è uscito, però va bene Questo calcolatore non è proprio perfetto, però infatti non vi fa fare al 100% però al 99% Quindi ragazzi non so cosa fare, è il massimo che posso fare Per fare questo vi lascerò il link, non in descrizione di questo video, del video scorso così ve lo andate a vedere Del video prossimo così vi andate a vedere pure quello se volete Vedetevi tutti i video che ci sono un casino di novità, se no vado a che davvero iniziamo con le cose, io vado sul sito Ok ragazzi, allora in questa schermata dovete selezionare i brawler che vi mancano A me quindi mi manca il brawler mitico più un altro maxin, quindi due, due brawler leggendari Quindi così Poi un altro step dovete mettere le percentuali che trovate nelle cassette Per esempio Qui la leggenda dei sands, quindi la probabilità di trovare brawler leggendari Quindi andiamo su brawler stars Tanto che lo apro io stoppo Andare nel negozio, andare in una megacassa, anche questa Vedere le probabilità Allora leggendari 0,0457 0,0457 0,0457 0,0457 Andiamo avanti Andiamo avanti Dei 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 Quindi io Sarà 97,57 Vabbè poi rivedo 97,57 Quindi 97,57 Quindi 97,57 Poi 36 Quindi 3 e 6 E' importante che voi le mettete Poi Quanti brawler stanno a livello 9 Io non c'ho nessuno a livello 9 E invece di 7 A livello 7 Devo andare a vedere I doni per un Per una Per una Per una Per una Per una Per un gadget Però non se ce l'avete già Quindi io Ho Questo non ce l'ho Uno Livello 7 Livello 1 2 3 4 5 E 6 5 Quindi 6 6 6 Devo mettere Quindi quelli con cui potreste sbloccare una E' Una Un Gadget Quindi io ho detto 6 o 7 ho detto che cosa? 6 6 quindi Ho detto 6 e poi cliccate Calculate E Vi calcola E E Vi calcola qualsiasi probabilità che volete Tranne al 100% Perché non sa al 100% Al 50% io troverò Un leggendario tra mille casse Un mitico tra 278 casse E' un E' un gadget tra 35 casse Invece Al 99% Vi troverò Un leggendario a 3500 casse Un mitico a 1800 casse E' un E' un E' un E' un Gadget A 228 casse Comunque 99% significa che di sicuro la troverete tra queste casse E' un E' un leggendario per forza almeno 23 casse Noi non lo trovo ma comunque non so se ho 23 case al box opening quindi non vi aspettate leggendari vabbè voi vedete lo stesso e poi vabbè questo è tutto il video ovviamente il link del sito ve lo lascio nel video scorso così andate a vedere il video scorso è bella